Nella lezione precedente abbiamo imparato che cos'è una proposizione relativa, ma ci siamo soffermati principalmente sul pronome relativo CHE, però avevamo anche già accennato che il pronome CHE non è l'unico modo per introdurre una proposizione relativa. Quindi cosa facciamo? Andiamo a riprendere il nostro specchietto che avevamo usato la volta scorsa e vedi che qui ci sono i pronomi relativi che abbiamo visto la volta scorsa, ma ci sono anche pronomi relativi misti e avverbi con valore relativo. Quindi oggi ci occuperemo di questi altri due tipi. Partiamo, come al solito, da delle proposizioni di esempio. Ho letto un libro che mi piace molto. La libreria in cui l'ho trovato è nella via dove abita mio zio. Facciamo la nostra analisi e cominciamo a individuare le diverse proposizioni. Ho letto, è un predicato, piace, è un altro predicato. Due proposizioni, eccole qua. Ho letto un libro che sarà la nostra principale che mi piace molto che è la nostra subordinata. Guardiamo quelle sotto. Ho trovato è abita. Io qui ho tre predicati, quindi avrò tre proposizioni. attenzione alla suddivisione. La libreria in cui l'ho trovato è nella via dove abita mio zio. Allora, dove abita mio zio è una. In cui l'ho trovato è l'altra e questa è la terza. Quindi la mia frase suddivisa diventa così. La libreria è nella via, che sarà la principale. E poi abbiamo due subordinate. In cui l'ho trovato è dove abita mio zio. Chiaro? Ok. Analizziamo. Questo che è sicuramente un che pronome relativo. Perché? Perché si riferisce al libro. Ho letto un libro. Il quale libro mi piace molto. Quindi se questa è la principale, ho letto un libro. La seconda è subordinata. di primo grado, esplicita, relativa. Benissimo. Guardiamo la seconda che abbiamo così messo un po' disordinatamente. La libreria è nella via, abbiamo detto che è la principale. Perché vedi è l'unica che può stare da sola. Ma queste due sono due subordinate relative anche loro. Perché relative? Perché in cui è un pronome relativo, accompagnato da una preposizione, dove non è un pronome, è un avverbio, ma in questo caso è un avverbio con valore di pronome relativo. E significa nel luogo in cui. Quindi questa sarà una relativa, forse un po' più facile da individuare perché c'era cui, ma anche questa è una relativa, è una relativa. Perché io posso sostituire dove scrivendo nel luogo in cui. Attenzione! Perché attenzione? Perché dove non è detto che sia sempre un avverbio con valore di pronome relativo. Può essere semplicemente un avverbio di luogo. Allora dobbiamo imparare come si fa a riconoscere il dove, quando è avverbio e quando invece ha valore di pronome relativo. Il paese dove ho trascorso le vacanze è delizioso. Questa è una prima frase. Vorrei sapere dove si nasconde. Seconda frase. In entrambe io ho dove. Però attenzione bene. Dove può significare due cose. Può significare in quale luogo oppure nel luogo in cui. Qual è la differenza tra queste due espressioni? Io qui ho un pronome relativo. Qui il pronome relativo non ce l'ho. Significa semplicemente in quale luogo. Allora proviamo a sostituire al nostro dove queste due espressioni. Togliamo il dove e proviamo a mettere questo. Il paese in quale luogo ho trascorso le vacanze è delizioso. Regge questa frase? Direi proprio di no. Non significa nulla. Il paese in cui ho trascorso le vacanze. Non è che devi mettere per forza sempre tutta la frase. Basta anche in cui. Il paese in cui ho trascorso le vacanze è delizioso. Sì. Se posso sostituirlo col pronome in cui, allora il mio dove è un pronome relativo. Veniamo alla frase sotto. Vorrei sapere dove si nasconde. Qua io posso mettere tranquillamente il mio avverbio di luogo. Vorrei sapere in quale luogo si nasconde. Quindi abbiamo imparato che il mio avverbio dove non sempre ha valore di pronome relativo. A volte è semplicemente un avverbio di luogo. Per riconoscerlo devo capire se posso sostituire dove con il pronome in cui, nel quale. Se posso sostituirlo, allora avrà valore di pronome relativo. E quindi, se io devo fare la mia analisi del periodo, sistemerò la mia frase mettendo Il paese è delizioso in cui ho trascorso le vacanze. Benissimo. E diventerà Il paese è delizioso principale E questa sarà la subordinata esplicita Relativa Relativa perché il dove, in questo caso, è un avverbio di luogo che però ha valore di pronome relativo. Invece, vorrei sapere in quale luogo si nasconde Vorrei sapere è la principale In quale luogo si nasconde è una subordinata di primo grado Esplicita Interrogativa e indiretta In quale luogo si nasconde è vorrei sapere Ok, se hai capito bene questo possiamo proseguire Torniamo al nostro schemino dei pronomi relativi misti Chi, chiunque, quanto, quanti Se osservi, capisci perché si chiamano misti Perché questi pronomi, che sono tutti pronomi relativi Sono in realtà formati da due pronomi E cioè, un pronome relativo In questo caso, vedi che c'è sempre il che, colui che, qualunque persona che, quello che, quelli che Affiancato da un pronome dimostrativo Come in questo caso, quello che, quelli che Oppure indefinito Allora, qual è la cosa a cui devi fare attenzione? Devi fare attenzione perché in alcune frasi Sembra che il pronome relativo non ci sia In realtà è semplicemente nascosto Quindi, quello che adesso dobbiamo imparare è Riconoscere i pronomi relativi misti E qui c'è poco da fare, te li studi Quando lo vedi, scatta il campanellino d'allarme E poi capire se nella frase, nel periodo che hai davanti Quella parolina è un pronome relativo misto Oppure qualcosa d'altro Se è un pronome relativo misto Allora devi imparare a scinderlo, a separarlo E a riconoscere la sua funzione Facciamo come al solito degli esempi Partiamo dal chi Chi significa colui che, colui il quale Io qui ti ho preparato due frasi Che contengono entrambe il chi Chi ha telefonato? Chi ha telefonato mi ha dato una bella notizia Due frasi molto simili Che però, dal punto di vista grammaticale Sono molto diverse tra loro La prima ha semplicemente un chi Pronome indefinito Perché affermo questo? Perché sono sicura che non è un pronome relativo misto Noi sappiamo che i pronomi relativi hanno la funzione Di collegare, di legare insieme Due proposizioni Ma qui non ci sono due proposizioni Quindi già questo mi fa capire Che io ho semplicemente un pronome indefinito Non ho altre proposizioni Guardiamo quella sotto Io qui ho Chi ha telefonato mi ha dato una bella notizia Ho due proposizioni Perché ho due predicati Ha telefonato Ha dato Quindi io intanto separo le mie due proposizioni Allora qua mi viene da dire Ah, attenzione Quindi se ho più proposizioni Il pronome relativo Questo pronome può essere un pronome relativo misto Cioè un pronome che ha proprio la funzione Di tenere collegate queste due proposizioni Vediamo Posso sostituire il chi Con Colui il quale Certo Colui il quale ha telefonato Mi ha dato una bella notizia Attenzione però Non li posso tenere tutte e due qua Li ho separati Proprio perché Il pronome relativo misto È formato da due pronomi Che vanno posti Ciascuno In una Delle due proposizioni E infatti Io dovrò dire così Colui mi ha dato una bella notizia Il quale ha telefonato E allora Questa È la mia proposizione principale E questa Sarà la sua subordinata di primo grado Relativa Colui mi ha dato una bella notizia Il quale ha telefonato Non è difficile però bisogna stare un pochino attenti Vediamone un altro Chiunque Chiunque significa Qualsiasi persona Abbiamo la stessa identica situazione di prima Può essere un pronome relativo misto Oppure semplicemente un pronome indefinito Vediamo Chiunque può venire alla festa Io qui ho un solo predicato Ti ricordi? Questo è un servile Quindi Può venire Quindi non ho necessità di collegare due proposizioni Ma allora questo sarà semplicemente un pronome indefinito Qualsiasi persona Può venire alla festa Certo Vedete che io posso tranquillamente Sostituire E il significato È giustissimo Non posso dire Qualsiasi persona Che può venire alla festa Punto Quindi il mio pronome relativo In questo caso Siccome c'è un solo predicato Non ha nessun senso Ma allora Io qui Non ho Nient'altro Che un pronome indefinito Veniamo a quella sotto Chiunque voglia venire Sarà accolto E qui devo sì Mettere entrambi Facciamo un po' di spazio Qualsiasi persona Che voglia venire Sarà accolta Se io ho introdotto Il mio che pronome relativo Questo chiunque Sarà un pronome relativo misto Allora adesso Devo abbinarlo bene però So che ci sono Due proposizioni Perché ho due predicati Sarà accolto Voglia venire Vediamo un po' Ecco qua Qualsiasi persona Sarà accolta Qualsiasi persona Che voglia venire Allora io avrò Qualsiasi persona Sarà accolto Che è la mia principale Qualsiasi persona Qualsiasi persona La quale Ecco il mio pronome relativo Voglia venire E allora questa è una subordinata Di primo grado Esplicita Relativa È chiaro? Facciamo un altro esempio Quanti Quanti significa Coloro Quelli Quelli che Quanti hanno studiato In questo caso Io ho un solo predicato E questo in effetti È un semplice pronome interrogativo Ho anche il mio punto di domanda Quindi non posso sbagliare Posso scrivere Quelli che hanno studiato No Vedi che il che Non c'entra Veniamo alla seconda proposizione Quanti hanno studiato Prenderanno un bel voto Intanto ho due verbi Hanno studiato E prenderanno Dividiamo la frase Ecco le mie due proposizioni Adesso Sostituiamo Con Quelli che Coloro che Quelli Prenderanno un bel voto Quali quelli Quelli che hanno studiato E allora io avrò La mia principale E questa Sarà La sua Subordinata Di primo grado Esplicita Relativa Ecco qua La regola d'oro Quindi è questa Se il pronome Unisce due proposizioni Allora io Ho un pronome Relativo Misto E cosa devo fare? Devo Scinderlo Devo dividerlo E poi Devo abbinare La parte del pronome Relativo Alla proposizione Giusta In questo modo Io riuscirò A individuare Con facilità La proposizione Relativa Un'ultima cosa La proposizione Relativa Come tutte le proposizioni Può avere Una forma Implicita Anche in questo Caso Occorre Capire Bene Dove è nascosto Il pronome Relativo Guardiamo Questi esempi Ho ricevuto Notizie Riguardanti Il tuo Viaggio Stiamo parlando Di forme Implicite E infatti Io in queste Frasi Ho messo Participio Presente Participio Passato Infinito Cioè Quei Predicati Che indicano Una forma Implicita Questo Riguardanti Io lo posso Sostituire Così Ho ricevuto Notizie Che riguardano Il tuo Viaggio E che cosa Noto qua? Noto Che io Ho trasformato Una proposizione Implicita Inesplicita E in questa Subordinata Esplicita Ho Il che Che ha proprio La funzione Di pronome Relativo Ho ricevuto Notizie Le quali Notizie Riguardano Il tuo Viaggio Quindi Quando trovo Un participio Presente Devo stare Attento Perché Potrebbe Nascondere Un pronome Relativo La stessa cosa Vale Per le altre Per gli altri Esempi I compiti Fatti Durante le vacanze Sono utili Proviamo a vedere Allora I compiti Fatti Durante le vacanze Sono utili Proviamo a sostituire Fatti Fatti È un participio Passato Dunque Io intanto Avrò già capito Che I compiti Sono utili È la mia Principale Adesso Vediamo Se posso Sostituire Fatti Certo Che posso Sostituirlo I compiti I quali Compiti I quali Compiti Sono fatti Durante le vacanze Sono utili Allora Anche in questo Caso Il mio Participio Passato Nasconde In realtà Un pronome Relativo Infatti Vedi Che Originariamente Fatti Durante le vacanze Era inserito Proprio In mezzo Perché Perché Sappiamo Che il pronome Relativo Deve sempre stare Vicino Al nome Che è sostituito Vediamo Un altro Esempio Sono stato Il primo Ad arrivare Posso Sostituire Anche qui Certo Che posso Sostituire Perché Io posso Scrivere Sono stato Il primo Ad arrivare Sono stato Il primo Che è arrivato Certo È bruttissimo Detto così Infatti Si usa La forma Implicita Però Dal punto di vista Della grammatica Sono stato Il primo Il quale Primo È arrivato Quindi Pronome Relativo Veniamo All'ultimo Esempio Ho visto Pino Ridere Di gusto Io qui Ho le mie Due Proposizioni Sposto Il verbo E vedo Se riesco A sostituire Ridere Con qualcosa D'altro Che abbia Un pronome Relativo E io dico Proprio Di sì Ho visto Pino Ho visto Pino Che rideva Di gusto Allora Anche in questo Caso Ho visto Pino E la mia Principale Io qui Ho un pronome Relativo Pino Il quale Pino Rideva Di gusto E allora Questa sarà Una subordinata Relativa Siamo arrivati Alla fine Cosa abbiamo Imparato In questa lezione Beh Innanzitutto A riconoscere I pronomi Relativi Misti Poi Abbiamo imparato A separarli Ed abbinarli In modo Corretto E infine A riconoscere Le relative Implicite Cioè dove Si nasconde Il pronome Relativo Come al solito Ti auguro Buon lavoro E ci vediamo Alla prossima Alla prossima